Questo prescrive tra l'altro, anche perché immagino che comunque si siano espressi i legali dell'ente e quindi a quel punto propongo al Consiglio Comunale chi è d'accordo, prendiamo atto che sono usciti da questa volta aspettiamo un atto, non abbiamo nada volendo Allora, prendiamo atto che i consiglieri Desiano e Mondi sul punto abbandonano l'aula chi è favorevole alza la mano, all'unanimità ma votiamo l'immediata esecutività dell'atto deliberativo che è favorevole alza la mano con l'auspicio, quello che poi se non potete aggiungere altro, perché abbiamo già l'immediato di voto ma se potete aggiungere la rivoluzione, vediamo la speranza che è presto, si chiara vista questa missione e che un'altra ombra stradissi dal passato Ma già, come vi chiese?